buonasera ben ritrovate sul mio canale sono sempre io gabriella in arte briga bijou vedete inquadrati mi approfitto questo in realtà è un video review perché ho fatto oggi il mio compleanno ed ho fatto un piccolo acquisto come autoregalo da da questo sito perline gioielli questo indirizzo io ve lo consiglio andatelo a vedere perché ha tantissimi materiali sono precisi cordiali disponibili a qualsiasi richiesta poi hanno dei materiali bellissimi ed arrivano sempre imballati bene e sono impeccabili cioè non hanno difetti quindi io lo straconsiglio quello che vedete qui ne approfitto sono degli schemini che ho fatto in questi giorni questo è uno schema completamente nuovo ho caricato ieri un non ci fate caso messo la legna nel camino questo ho messo un breve anteprima fotografico sul mio canale e si chiamano tresor sono bellissimi non lo devo dire io per me sono bellissimi sono molto carini e poi sono veloci da fare quindi nei prossimi giorni metterò sul canale il tutorial passo a passo questi altri invece sono in realtà gli orecchini romance rivisitati nel senso che negli orecchini romance nell'incastonatura inserivo dei bicono però i bicono sono taglientissimi quindi ho pensato cominciato questo modulo inserendo delle delle perline sempre da 4 mm però poi continuando perché sono una che va sempre così di testa sua anche se lo schema è mio però anche i miei li cambio alla fine l'ho variato e quindi è venuto fuori questo modulino molto carino che secondo me può andar bene anche come ciondolo quindi i prossimi tutorial settimana prossima caricherò tresor e romance modificati passiamo adesso all'oggetto del del video coso acquistato prima di tutto finalmente fireline finalmente diventerò proverò anche io il fireland che fino ad oggi non ho mai acquistato approfittato insomma di uno sconticino che mi era stato offerto da perline gioielli e l'ho acquistato poi vi farò sapere come mi sono trovata poi ho acquistato questi che sono in realtà delle basi per usare sia al video embroidery che al su touch e le acquistate tutte e due perché volevo capire la differenza e questo costa leggermente meno dello stiff staff questo mi risulta mi sembra al tatto più poroso e quindi questa è l'unica differenza tattile che io ho rilevato perché poi lo spessore mi sembra pressoché identico poi quando lo utilizzerò vi farò sapere se anche lavorandoli ci sono delle differenze poi cosa ho acquistato ho acquistato degli aghi per tutti i prezzi ovviamente andate sul sito perché poi ci sono periodi in cui fanno delle promozioni e quindi non non ve dico poi acquistato questa tavolozza creativa perché ho pensato che mi può essere comoda a volte quando mi faccio uno schemina uno schemina bene e uno quando mi faccio degli schemini insomma per le collane il bracciali con la tecnica dei nodi così non vanno di qua e di là sul tappetino me risistema insomma anche questa parte che sia ci sono le misure sia in centimetri che in pollici già questi vani contenitori niente la proviamo e vediamo come va poi quindi un'altra cosa di minuteria che acquistato sono questi sono molto carini vedete sembrano sembrano come ecco mi faccio vedere da vicino sono fatti in questo modo sono delle gocce però faccettate un po tipo rombo un rombo un po più lungo da un lato sono molto carini secondo me al su taglio anche con le perline e li ho prese in tutti e due i colori sia dorato che argentato poi cos'altro preso con l'altro preso ha preso anche questi che sono delle catene strass io non avevo non ci avevo fatto caso che sono da 4 mm quindi per me sono un po grandine però sicuramente insomma lì le utilizzerò però come centrali o come intramezzi nel su taglio sono troppo grandi quindi sicuramente no non in questo modo ora passiamo al velo le uniche pietre che ho acquistato a questo giro sono questi elementi in aulite che sono bellissimi io li sarò ovviamente al su taglio voi li vedete di un verde molto un po diverso da quello che schiene la realtà però assicuro che è un colore un po più caldo voi lo percepite sparatissimo invece molto bello poi passiamo a sorpresa non c'è nessuna sorpresa nell'ultimo video vi ho detto che odio le delica bene ci ho preso gusto ad incastonare con le delica e non avendone ne acquistate qualcuno queste matte black black vabbè black matte poi opac grey a b queste sono spettacola veramente bellissime straconsigliate queste per l'estate denim blu luster opac tecnico luster bellissime ragazze e poi va bene classiche dura cotta galvanati galvanized yellow gold il mio inglese è sempre pessimo vabbè quindi queste sono le delica che ho acquistato per acquistato delle crescent perché vorrei fare un'altra versione nel tutorial all'interno del tutorial voterizzare quelle per fare i romance poi acquistato delle 11 che mi mancavano queste metallic amethyst gunmetal e poi metallic iris brown perché mi piace sempre come colorazione ne l'avevo terminate poi ho acquistato delle delle 11 queste color metalliche matite belle 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 queste invece metallic iris purple o irish purple forse iris purple stasera mi faccio ridere già lo so che state ridendo tutte cattivone e poi sempre queste però sono rose gold in questo caso sempre 15 0 poi 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 ho acquistato delle mini duo per gli orecchini armor crystal borrome pale pale pole gold vabbè sono queste poi acquistate delle arcos bronze gold matte queste fantastiche le super duo poly chrome bellissime queste altre invece che sono le white line lila luster molto carine che se già l'avevo prese come anche queste le sempre poly chrome indigo orchidum orchidea sono particolarissime perché cambiano colore a seconda di come la luce viene proiettata su di esse mamma mia come parlo bene oggi passiamo agli swarovski allora primo colore violet bellissimo da 14 io ormai sto facendo una collezione di swarovski però poi non li utilizzo sempre a me l'ho dimenticata di queste le silver splash gem duo mai provate ecco qua queste dicevo sto facendo una collezione di swarovski ma poi ne utilizzo un terzo un quarto di quelli che ho per ultimo terrò i miei preferiti questi altri invece sono da dodici rose rosa questi che sono carinissimi crystal lime belli 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 per l'estate casomai da giocare in un ciondolo poi un paio di orecchini grandino direi poi dopo questi che è una delle nuove colorazioni crystal royal red carina carina un'altra colorazione crystal sono questi bellissimi un colore delicatissimo crystal lilac e poi i miei preferiti eccoli qua questi ragazzi allora questi già le ho presi da 12 la volta scorsa crystal rose gold foil ed penso io ne prendo sempre due pezzi perché penso sempre di fare orecchini poi non lo so li prendo sempre a coppia ma guardate la meraviglia di questi cioè indescrivibile e questo mi sa che è una nuova colorazione crystal metallic sunshine ragazzi sono uno spettacolo questi sicuro mi tengo per me questo è poco ma sicuro niente questi sono i miei acquistini per il mio regalo stavo dicendo di natale per il mio regalo di di compleanno e poi in omaggio ho avuto mi ha inviato questo cabochon luna soft penso sia da 16 o da 18 io non non ne ho mai utilizzati lo incastomerò mi ha inviato questo questo pacchettino di super duo molto molto carino e stilissimo e poi mi ha inviato questi svaroschi da 0 3 che vi devo far vedere così perché se no eccomi sono cascati non potete capire il colore sono in vetro ma sono stra belli e quindi sicuramente le utilizzerò niente ragazze è stato un piacere Fare quattro chiacchiere con voi Se vi è piaciuto il video mettete un pollice in su in ogni caso andate a visitare questo sito perché ne vale veramente secondo me la pena Niente un bacio da briga bisù ciao